a marufaldi si appresta il tiro rinviato oltre limite del centrocampo si aspetta il fischio dell'arbitro mannaggia non va a spiegare vedi che in queste cose ci vuole calma hai visto rana? l'arbitro 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 Paolo Dossi sparata dal portiere che si rifugia il calcio d'arbitro l'arbitro 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 il cuore la fai la fai il cuore in la fai la fai l'avventura bene Robi, bravo! che nante con la testa, con le mani o con i piedi grazie mamma mia! è una vergogna arbitrare così eh!